Il 2016 è stato un anno caratterizzato da numerosi segnali positivi sul fronte della raccolta sangue effettuata da Avis, provinciale di Ravenna. I dati complessivi indicano che vi è stato un innalzamento delle donazioni da parte dei donatori della provincia di Ravenna. Le donazioni di sangue sono state 19.274, 220 in più rispetto allo scorso anno, frutto dell'impegno di 10.418 avisini. L'incremento delle unità raccolte è effetto sia di un aumento dei donatori che della maggior frequenza di donazioni. Dichiarano dall'ufficio stampa dell'Avis provinciale di Ravenna. L'attività di Avis ha contribuito a realizzare le 21.000 trasfusioni effettuate nel territorio di riferimento tra sangue e plasma, in primo luogo nell'ospedale di Ravenna e a seguire in quello di Lugo, di Faenza e nelle case di cura private nel comprensorio, garantendo oltre a queste più di 200 unità al centro regionale sangue. Il trend positivo si è confermato anche nel mese di gennaio, tradizionalmente contrassegnato da un numero contenuto di donazioni, complici l'influenza e i disagi legati al maltempo. In questo periodo, infatti, la raccolta è stata in linea con quelle degli altri mesi, con un incremento di 64 donazioni rispetto allo stesso periodo del 2016.